Ups, tutti, 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 miei cari upsini e upsine, come state? Come, come, come state? Io spero veramente bene, ovviamente. Vi ringrazio per aver deciso questa sera, questo pomeriggio, questa mattina, non lo so quando guarderete questo video, un altro video con il Tascam. Ho deciso appunto di registrare questo nuovo video qua, dove mi vorrei proprio concentrare sulla tua testa, diciamo, e quindi prendermene un po' cura, fare un massaggio, vedere un po' di cosette, no? Perciò io subito ti chiedo di indossare un paio di cuffie, oppure di auricolari, scegli te quello che preferisci, e di stenderti sul tuo letto. Come sempre ti chiedo scusa se per caso sentirai un po' di caos in sottofondo, ma non sempre c'è il silenzio che mi piacerebbe ci fosse, nonostante io farò tutti i tagli necessari per far sì che questo video sia il più pulito possibile. Ma iniziamo a dispensionare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso volevo prendere queste forbici qui e, come dire, quasi improvvisare. Io scusate, ma mi danno un po' fastidio gli occhi, improvvisare quasi un... Scusate,sh necesitava anche la acciones... Scusate, scusate, scusate. Mi è sembrato veramente divertente questo trigger da fare e ho voluto provare a riportarlo Adesso massaggio un altro po' e poi lo rifacciamo Mi raccomando, tieni gli occhi chiusi Mi raccomando, tieni gli occhi chiusi Adesso massaggio un team Adesso anzi sapete che cosa facciamo? Io ho qui con me il nostro amato pennello e passerò questo qua sopra Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi Mi raccomando, è importantissimo in questa fase tenere gli occhi chiudi E poi non mi sono neanche pettinato troppo quindi sembrerò un pazzo come sempre E poi sono in questa fase tenere gli occhi E poi facciamoci un po' e poi E poi facciamoci un po' e poi E poi facciamoci un po' e poi Fatemi sapere nei commenti se preferite il Blue Yeti oppure il Tascam come microfono Per chi non lo conosce, non sapesse i nomi tecnici, questo fatto così si chiama Tascam Il Blue Yeti è quello che uso nella maggior parte dei miei video Quindi basta anche guardare lo scorso video Il microfono che utilizzo si chiama Blue Yeti Io utilizzo quello perché, non lo so, lo preferisco secondo me E' più adatto a video dove per esempio faccio dei trigger Forse questo microfono è più incentrato per quanto voglio fare qualcosa di preciso Sulle orecchie e sulla testa perché appunto Lo sentite pure voi che quasi sente meglio questa cosa Però è anche vero che questo microfono, diciamo, è più probabile che catturi un rumore Perché non lo so, lo sento un po' più sensibile forse Non lo so Io spero sempre non sentiate troppo caos Però vabbè Ma adesso volevo fare una cosa Volevo rimuovere questa pellicola Così Perché volevo un attimino più concentrarmi Di qua E di qua Così e adesso volevo in realtà fare anche un po' di... e ho anche preso... delle pinzette per spulciarti via tutti i pensieri negativi o in generale qualche pensiero che ti pesa un po' troppo io lo spulcio lo spulcio anche di qua lo spulcio scuta 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 mi raccomando prendo e prendo, 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 non lasciare mai i brutti pensieri, prendere il sopravvento e adesso voglio riprendere il pennello e fare... mi raccomando mi raccomando poi fammi sapere, fammi sapere se hai già programmato come festeggiare il Natale visto che siamo ufficialmente a dicembre quindi il Natale manca sempre meno perché arrivi questo video esce la prima di dicembre quindi diciamo che tra tre settimane è Natale che non sono tantissime quindi si sta avvicinando sempre di più, sempre di più un po' come il tuo momento di chiedere gli occhi che si avvicina sempre di più si avvicina, si avvicina perché la stanchezza ti sta un attimino prendendo e quindi tu vuoi riposarti perciò ti dico ora tocca a te iscriviti al canale se sei nuovo e non l'hai ancora fatto lascia un like se il video ti è piaciuto un bel commentino sei un po' di tempo e a me ha fatto veramente piacere averti qua con me almeno per un pochino il video di oggi finisce qui ma se tu resterai ancora insieme a me io ti lascio qua il mio video precedente qua una mia playlist e qua il tasto per andare sul mio canale e vedere tutto quello che vuoi sia video che shorts che vuoi quindi non mi resta che farti un altro paio di carezze e dire di mandarti un grande bacio e di darti la buonanotte 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 Buonanotte